C'è una sorgente di acqua dolce freccia che la mantiene sempre fresca e durante questo periodo di questa formata serviva anche per frigorifero perché ne prendevano tanti di toni. Guardate come si stabilisce, guardate, ha proprio un discolò, sembra di stare con mare condizionato. Questa è mezz'ora. Questa sorgente di acqua dolce freccia che la mantiene sempre fresca, non sai come si chiama l'applicato?